Ogni anno in Italia vengono utilizzati oltre 1,2 miliardi di vaschette in plastica per frutta e verdura. Parte da questo la campagna Basta Vaschette, lanciata da Marevivo in collaborazione con Zero Waste Italy. L'iniziativa, come immagine di lancio, rielavora provocatoriamente il noto capolavoro di Caravaggio, giovane con canestra di frutta, e chiede al Parlamento una legge che vieti questo tipo di imballaggi quando non è necessario. Attualmente gli imballaggi sono tra i principali prodotti a impiegare materiali vergini. Il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzati in tutta l'Unione Europea sono destinati esclusivamente a questo scopo. Ognuno di noi può fare la differenza evitando acquisti in imballaggi monouso. Ovviamente anche i produttori devono fare attraverso la loro responsabilità da loro parte riducendo il ricorso a queste vaschette.